Nessuna via d'uscita, almeno per ora, ennesima doccia fredda sul tunnel di San Gerolamo, secondo l'otto della nuova Lecco Bergamo. Il cantiere, inaugurato nel 2009, non è ancora entrato nel vivo e non lo farà nemmeno nei prossimi mesi. La competenza dell'opera, che dovrebbe collegare Vercurago alla frazione Pascolo di Calozio Corte, è passata dalla provincia ad Anas, ma nei fatti siamo ancora a punto a capo. Gli aggiornamenti delle ultime ore riguardo la consegna prevista per questo settembre nella nuova progettazione esecutiva della Lecco Bergamo non sono particolarmente positivi, dichiara Gianmario Fragomeli, parlamentare del PD. Già lo scorso mese di giugno avevo depositato un'interrogazione con cui chiedevo il rispetto dei tempi indicati della convenzione sottoscritta nello scorso settembre tra provincia e Anas. Allo stato dei fatti, però, dobbiamo registrare un'evidente lentezza nella realizzazione degli adempimenti previsti. In queste ore, prosegue Fragomeli, avremmo dovuto poter visionare il nuovo e completo progetto esecutivo. Siamo invece ancora alle prese con affidamenti di piani integrativi da parte di Anas per indagini geognostiche sulle caratteristiche del suolo. Chiaramente non vi è nulla da obiettare in merito a questa attività, che sicuramente consentirà di ottenere un progetto realizzabile, sicuro e con i nuovi costi aggiornati. Quello di cui ci rammarichiamo, conclude Fragomeli, è che avremmo comunque preferito maggiore celerità da parte degli enti coinvolti nell'accordo. I lavori per il tunnel di San Gerolamo, lungo quasi due chilometri e mezzo, sono iniziati nel 2009. Il costo stimato dell'opera è praticamente raddoppiato, passando dai 90 milioni di euro iniziali a una stima attuale di almeno 160. E' un'altra stima attuale.